Gli audio racconti, serie Solar Pons, i tre gnomi rossi, di August Derland, letto da Dani. Il caso dei tre gnomi rossi, così è catalogato nei miei appunti, è fra quelli che meglio mettono in luce i tipici sistemi di Solar Pons. La rapidità con cui venne risolto e l'acutezza quasi dimessa delle deduzioni di Pons lo collocano sulla stessa linea del caso del Narciso Nero, immediatamente precedente. Uno di quei casi che presentavano aspetti talmente eccezionali da indurre l'ispettore Jameson di Scott Randiard a chiedere il parere del mio amico, che i giornali già cominciavano a definire lo Sherlock Holmes di Pride Street. Jameson si presentò a casa nostra, in Pride Street numero 7, nel pomeriggio di uno dei primi giorni di maggio, quando, dopo un periodo di forzati inattività, il tedio si era ormai impadronito di Pons. Il volto paffuto, congestionato dallo sforzo fatto nel salire le scale, l'ispettore entrò nel nostro studio sbuffando come un mantice. «Oh!» mormorò Pons guardandolo tutto contento. «Abbiamo per le mani un omicidio!» Seguendo la direzione dello sguardo di Pons, Jameson sbirciò la macchiolina di sangue che aveva sui pantaloni all'altezza del ginocchio. «Il corpo era per terra, dunque!» continuò il mio amico. «E dal momento che deve aver sanguinato abbondantemente, non mi sorprenderebbe di apprendere che la vittima è stata pugnalata!» Jameson lo guardò con un misto di meraviglia e ammirazione. «Uomo o donna?» domandò Pons. «Uomo!» rispose subito l'ispettore. «Ma non capisco come mai ne siate già al corrente!» Il mio amico fece una smorfia di fastidio. «Basta sapere usare gli occhi, Jameson. Quella macchia sui vostri pantaloni è una macchia di sangue, è ovvio. Le condizioni dei vostri pantaloni dimostrano che vi siete trascinato ginocchioni sul pavimento. Il fatto che vi siete trascinato carponi, imbrattandovi i pantaloni, sta a dire che si tratta di un delitto, e non di un suicidio, perché in questo secondo caso non vi sareste rivolto a me. Visto che mentre esaminavate il corpo non avete potuto evitare di sporcarvi, ne deduco che la vittima ha perso molto sangue, e questo a sua volta mi induce a supporre che sia stata usata un'arma da taglio, che, una volta inferto il colpo, sia poi stata estratta dalla ferita. Jameson annui con aria avvilita. «Sentiamo di che si tratta», suggerì Ponce. «Di uno di quei casi che sono proprio la vostra specialità, Ponce», cominciò col dire l'ispettore. «Voi avete gettato la spugna, allora?» «Neanche per sogno. Ho anch'io la mia brava teoria sul delitto». «Ah sì? Sentiamo i particolari». Dopo aver acceso la pipa, Ponce si appoggiò alla spalliera della poltrona, contemplando Jameson in silenzio. Questi raccontò. «Dunque, le cose stanno così. Conoscete quei due autori, o meglio, coautori, che abitano in St. John's Wood? Quei due intorno ai quali i giornali hanno fatto tanto chiasso alcuni giorni fa. Brighton e Lane? No, non li conosco di persona. Scrittori veristi e molto prolifici, a quanto mi risulta. Se non erro, Lane è anche pittore e ha esposto le sue opere in numerose mostre. Ultimamente i due hanno dato alle stampe una monografia sul gioco degli scacchi, a mio avviso redatta piuttosto bene. Chi di loro è stato assassinato? Lane, il più giovane. Due pugnalate. La prima ferita non era mortale, ma la seconda deve averlo ucciso sul colpo. L'arma, uno stiletto italiano che apparteneva proprio a lui, al morto, è ancora conficcata nel suo cuore. Oltre alle ferite, abbiamo rilevato anche delle contusioni sospette sulla testa e sul polso sinistro. In giro per la stanza non c'era niente che potesse aver causato le ecchimosi. Né egli può essersele fatte battendo contro qualcosa, cadendo magari, visto che è steso nel bel mezzo della stanza, lontano dalle pareti e lontano dai mobili. Segni di lotta? domandò Pons. Nessun segno. La stanza era linda e pinta, come se là non fosse mai successo niente. Non c'era uno spillo fuori posto. Detto tra noi, ho l'idea che Lane si sia ucciso. Pons lanciò a Jameson uno sguardo incredulo. Scusate, ma a rigor di logica, non si dovrebbe presumere che Lane, volendo suicidarsi, avrebbe fatto in modo da riuscirvi al primo colpo. Non lo so. Le circostanze sono così singolari. Brighton ci ha telefonato, parlando in modo incoerente e dicendo che era successo qualcosa a Lane. ci ha chiesto che ci sbrigassimo ad andare laggiù. Quando siamo arrivati, lo abbiamo trovato con i nervi a fior di pelle. Andava avanti e indietro con un barattolo di tinta in una mano e un pennello nell'altra. Che strano, mormorò Pons. Gli avrete domandato il perché, spero? Si capisce. Ci ha spiegato che stava dipingendo. Infatti, nel cucinino, abbiamo notato il lavoro che stava facendo. «Hm...» borbottò Pons. Dopo aver riflettuto in silenzio, chiese «Qual è stato il giudizio del coroner?» «Lui propende per l'omicidio, ma come vi ho già detto, io non sono d'accordo. Lane era morto da un'ora quando siamo arrivati noi.» «Un'ora!» esclamò Pons. «E dove si trovava Brighton durante tutto questo tempo?» «O tutto controllato, ovviamente.» Brighton era in giardino. Accudiva le aiuole. Ha scoperto il corpo del suo collega soltanto quando è rientrato in casa. Il morto era steso per terra, sul pavimento del classico soggiorno con terrazzo di tutte le case di St. John's Wood. Brighton ci ha telefonato subito dopo aver scoperto il cadavere. «Naturalmente gli avrete chiesto se ha udito dei rumori sospetti provenienti dalla casa.» «Certo, non aveva sentito niente. Per la verità, Brighton non sapeva neanche che Lane, uscito il mattino presto, fosse già tornato a casa. Non lo aveva udito rientrare.» Pons parve riflettere su questo fatto. Poi continuò. «Avete detto che sul corpo avete riscontrato delle echimosi che potrebbero essere state originate da una lotta corpo a corpo. Eppure, nella stanza, tracce di lotta non ve ne sono e nemmeno sono stati uditi dei rumori attribuibili ad una zuffa. Decisamente vi è da rimanerne perplessi. «Avete indagato per appurare l'esistenza o no di un movente?» Jameson a noi. «Sì, Pons, abbiamo scovato un movente. È stato Brighton a metterci sulla buona strada. A quanto pare, poco più di un mese fa, Lane aveva scritto un articolo su un collega giornalista, mettendolo in ridicolo con grande maestria, purtroppo. Senza far nomi, si intende, ma per i ben informati, chi fosse il giornalista in questione era chiaro come il sole a sentir Brighton. Ad ogni modo, un paio di settimane or sono, quel tizio scrisse una letterina a Lane, dicendogli che presto avrebbe fatto i conti con lui. «E voi avete questa lettera?» intervenne Pons. «No. Brighton dice che Lane, convinto che si trattasse di uno scherzo, la distrusse subito. Certamente almeno saprete come si chiama quel tale. Beh, no, non con certezza assoluta almeno. A detta di Brighton, il giornalista messo alla berlina da Lane, un certo John Estenham, farebbe parte della redazione del Mirror. Però, non avendo letto la lettera, Brighton non sa se fosse o no firmata da Estenham. Estenham, mormorò Pons sovrapensiero. Il nome non mi giunge nuovo. Brighton vi ha detto se si tratta di un giornalista sportivo, per caso, un cronista che si occupa di corse di cavalli. «Ecco, sì», disse Jameson. «Mi pare proprio che abbia accennato a qualcosa del genere. Sì, credo proprio di sì». «E allora potete cancellare Estenham dalla vostra lista dei sospetti. E' morto tre giorni fa in un incidente automobilistico, mentre si trovava nell'Essex per assistere alle corse. Altri indiziati?» Jameson scosse la testa. «Nessuno. Ma l'inchiesta è appena incominciata. Brighton afferma di non avere idea di chi possa aver voluto male a Lane e si rifiuta di credere che Estenham abbia qualcosa a che vedere con questa faccenda. Direi che possiamo eliminare Estenham. disse Pons seccamente. Suppongo che vi siate formato un'idea su come è stato commesso il delitto. «Guardando bene le cose, sembra tutto piuttosto ovvio», disse Jameson. Tornato a casa, Lane si è tolto il sopravvito e si è messo a suo agio nel soggiorno. Poco dopo, qualcuno lo ha raggiunto entrando direttamente dalla porta a vetri aperta. può darsi che sia sorta una lite, degenerata in una zuffa, nel corso della quale Lane è rimasto ucciso. O è andata così, oppure Lane si è suicidato. Nel primo caso, ammettendo che lo sconosciuto sapesse che Brighton stava lavorando in giardino, gli sarebbe stato relativamente facile seguire Lane in casa e ucciderlo. Ponce chiuse gli occhi per concentrarsi sulle sue riflessioni. Poi si alzò bruscamente per andare a frugare nel cestino della carta straccia, dal quale ripescò un grosso catalogo librario arrivatoci per posta il giorno precedente. Tornò a sedersi e si mise a sfogliarlo. Ecco, l'ho trovato, mormorò finalmente. Scacchi, scacchi, ecco qua, il gioco degli scacchi e la mente umana. Una monografia di H.C. Brighton con un commento di Gerard Lane. Dopo aver letto in silenzio per qualche minuto, alzando gli occhi, disse, «Penso che faremo una scappata per vedere la scena del delitto. Che ne dite, Parker?» Io annui. Era scontato che la possibilità di assistere ad un'inchiesta di Ponce avesse la precedenza su qualsiasi altra cosa io avesse avuto in mente di fare. Il nostro tassì ci depositò davanti ad una casa ad un solo piano, moderna, decorata a stucco bianco, un po' arretrata rispetto alla strada. Da un lato c'era una terrazza coperta e, sul retro, un giardino circondato da un traliccio. Brighton, uno strano personaggio paludato in una svolazzante veste da camera di seta nera guarnita di crespo rosso, uscendo di corsa dalla casa, ci venne incontro sul terrazzo. Era un bel giovanotto, ma gli occhiali dalla pesante montatura di corno gli deturpavano in un certo senso la fisionomia. «Signor Pons, finalmente!» si affrettò a dire avvicinandosi e, lanciando un'occhiata allusiva in direzione di Jameson, continuò. «Forse adesso si potrà far luce su questa spaventosa disgrazia». «Il signor Brighton, se non mi inganno!» domandò Pons in tono asciutto. «Sì, sì, sono io!» rispose Brighton, parlando a scatti e nervosamente. «Penso che vogliate vedere subito il cadavere, vero?» Senza nemmeno dar tempo a Pons di rispondere, girò sui tacchi e, in gran fretta, ci fece strada in casa, passando per una delle porte e finestre che davano sul terrazzo. Il cadavere, coperto da un lenzuolo, era steso a terra nella posizione descrittaci da Jameson. Pons fece un ceno di saluto all'agente di Piantone e si chinò per esaminare la salma. Così come ci aveva accennato l'ispettore, lei, un giovanotto biondo, giaceva a quasi supino, in parte poggiato sul fianco. Il braccio destro steso di lato, quello sinistro, ripiegato in direzione dello stiletto conficcato nel corpo. Pons esaminò minuziosamente il cadavere, gettando di tanto in tanto un'occhiata alle porte e finestre da una delle quali poteva darsi che fosse entrato l'assassino. Si chinò per scrutare da vicino le due echimosi di cui aveva parlato Jameson, una sulla testa, l'altra sul polso sinistro. Si soffermò ad esaminare più a lungo quella sul polso e, infine, rizzatosi in piedi, rimise a posto il lenzuolo che copriva il cadavere. Badando a dove metteva i piedi, si allontanò dal tratto di pavimento l'urdo di sangue. Si volse verso l'occhialuto scrittore che aveva seguito ogni sua mossa con occhi attenti e gli domandò improvvisamente. Il signor Lane era mancino? Si, 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 chiunque può confermarvelo, rispose Brighton con voce soffocata. Ponce annui sovrapensiero, poi continuò. Mi è stato detto che voi, prima di scoprire il cadavere, eravate in giardino. Sapevate che il signor Lane era in casa? Brighton scosse la testa. No, non sapevo che Gerald fosse tornato. Non avete visto né sentito niente, quindi. No, il giardino si estende in massima parte dietro la casa, di là. La terrazza non si vede nemmeno, potete controllare. Io ero proprio in fondo, lontano, e non ho visto né udito niente di insolito. Niente di insolito, fece Ecoponce. Ma avete udito qualcosa di consueto, un suono dei rumori che avete percepito e inconsciamente accettato come usuali. Brighton parve riflettere. Ecco, adesso che l'avete messa così, mi ricordo. Un suono stranamente ovattato, come se qualcuno stesse lavando qualcosa con uno straccio bagnato, sbattendo lo strofinaccio sulla superficie di non so che cosa. Dei tunfi sordi e di tanto in tanto un rumore simile a quello che produce l'acqua scorrendo dal rubinetto. È andata avanti così per un bel po'. Soltanto dopo essere rientrato in casa non ho sentito più niente. Che cosa avete pensato che fosse? Ho supposto che uno dei vicini stesse lavando qualcosa. Le altre case non sono poi tanto lontane. Oppure che Gerald fosse tornato. Non ho dato importanza al fatto che il rumore continuasse da più di un'ora. Ricordo di averlo udito senza farci caso durante tutto il tempo che sono rimasto in giardino e anche mentre rientravo. Capisco. E che ora era quando siete rientrato in casa? Circa mezzogiorno credo. Non potrei dirlo con matematica precisione ma certamente tra le undici tre quarti e le dodici. Adesso raccontateci esattamente che cosa avete fatto quando avete scoperto il cadavere. Lo incitò Pons. Brighton affondò le mani nelle tasche e cominciò. Rimasi profondamente scosso naturalmente più di quanto io riesca a esprimere. Gerald e io abitavamo insieme da sei mesi eravamo molto legati. Pons tagliò corto. Avete trovato il corpo a mezzogiorno poi che cosa avete fatto per piacere? Ho telefonato immediatamente a Scotland Yard replicò Brighton con un tono risentito che Pons finse di non notare. molto bene lo interruppe nuovamente il mio amico. Avete chiamato la polizia e vi ha risposto Jameson che però suppongo non è arrivato qui sull'istante. Che cosa avete fatto nel frattempo? Brighton esitò mentre il volto gli si copriva di un leggero rossore. Beh signor Pons mi è successo un fatto curioso vedere Gerald là per terra morto mi aveva messo tutto sotto sopra. ero così nervoso sono nervoso per natura l'avrete notato così sconvolto dopo aver chiamato la polizia ho cercato di dominare i nervi ma non riuscivo a pensare che è una cosa sempre quella. E sarebbe? Beh tre giorni fa Gerald aveva espresso il desiderio che io colorassi i tre gnomi tre statuine che aveva comprato in Austria li voleva dipinti di rosso cardinale ebbene quel pensiero è diventato talmente ossessivo che ho finito col cedere e mi sono messo a dipingerli stavo appunto terminando quando è arrivato l'ispettore Jameson lui stesso potrà confermarlo e queste statuine dove erano prima? domandò Pons Brighton indicò il caminetto che si apriva sulla parete di fronte alle porte a vetri su quella mensola Pons annui ho sentito dire che il signor Lane a prescindere dal suo lavoro di scrittore era un artista completo godeva di una fama eccellente anche come pittore potrei chiedere perché non le ha dipinte lui stesso Brighton contemplò il corpo steso al suolo coperto dal lenzuolo Gerald era un uomo molto occupato signor Pons e poi quel genere di lavoro non era cosa per lui paesaggi marine sì in questo se la cavava ma verniciare delle statuette senza alterarne la delicatezza originale di costruzione e esecuzione Gerald stesso sapeva di non essere in grado di farlo io invece di questi lavori ne ho fatti molti potrete vederne in tutte le stanze capisco mormorò il mio amico Brighton puntò i suoi occhi rotondi su Pons fissandolo senza battere ciglio Pons si scansò e fatti pochi passi per arrivare fino alla porta ispezionò la stanza attigua con un rapido sguardo panoramico dalla soglia girandosi disse avete detto di abitare in questa casa da sei mesi l'avete arredata voi stessi vero sì io ho arredato la sala da pranzo e la mia camera Gerald alla sua e il soggiorno alla cucina e allo stanzino abbiamo provveduto insieme rispose lo scrittore ah sì mormorò Pons con visibile interessamento mi piacerebbe vedere la stanza del signor Lane ma certo assentì Brighton seguitemi prego si avviò verso le stanze interne passando per la porta davanti alla quale Pons si era fermato questi lo seguì rimasti soli l'ispettore ed io ci voltammo a guardarci nello stesso istante non mi pare che stiamo facendo molti progressi disse Jameson il fatto che Lane fosse mancino dovrebbe significare qualcosa dal momento che Pons lo ha fatto rilevare suggerì tanto per cominciare significa che senz'altro c'è stata una lotta disse Jameson e avrebbe forse aggiunto qualcos'altro se in quel momento Pons non fosse rientrato all'improvviso avete dato un'occhiata alla sala da pranzo contigua Jameson domandò Pons non mi sono mosso da qui rispose l'ispettore no e allora andate a vedere Pons si tirò di lato e Jameson avanzò a passi svelti Brighton affacciatosi sulla soglia osservò quell'andirivieni con aria disorientata poco dopo l'ispettore era di ritorno dunque Jameson domandò Pons che stanza bizzarra decorata in modo molto appariscente a parer mio esatto disse il mio amico mentre gli occhi gli brillavano fatti alcuni passi si fermò davanti alla porta a vetri che dava sul terrazzo nel cortile della villetta a lato separato dal giardino da una semplice siepe un bambino era intento costruire un castello di sabbia Pons ristette a osservarlo non potreste suggerire qualcosa domandò Jameson con voce che tradiva un'intima preoccupazione voltandosi appena Pons rispose vorrei richiamare la vostra attenzione sulla singolarità di questa stanza Jameson aveva l'aria stupita dopo essersi guardato rapidamente intorno ribatté ma in questa stanza non c'è niente di speciale proprio in questo consiste la singolarità rispose Pons detto questo uscì dalla stanza e attraversata ricorsa la terrazza saltò la siepe per entrare nel cortile attiguo si accoccolò accanto al bambino indaffarato col suo castello di sabbia povero me mormorò Brighton che strano temperamento quel signor Pons piuttosto piuttosto smarrito tacque di botto gli occhi fissi su Jameson che impietrito dalla meraviglia guardava il mio amico siete sicuro che sia del tutto del tutto normale si azzardò ad insinuare lo scrittore battendo le palpebre come un gufo dietro le lenti si comporti in una maniera per la verità Brighton non aveva tutti i torti in un certo senso Pons come se niente fosse si era messo ad aiutare il bambino nella costruzione del castello di sabbia mi avvicinai alla finestra per osservare meglio i due Pons sembrava molto attento al suo compito ma notai che contemporaneamente chiacchierava col bambino il quale del resto sembrava più grandicello di quanto avevo ritenuto a prima vista era un maschietto sui quattro anni Pons rimase con lui dieci minuti buoni poi tornò indietro quando egli rientrò nella stanza finalmente la tensione si spezzò bene signor Pons se in questa stanza non c'era niente di singolare voi avete colmato la lacuna col vostro apporto personale disse Brighton disorientato giusto signor Brighton disse Pons sorridendo comunque la mia stravaganza mi ha permesso di scoprire la fonte di quello strano rumore sordo che avete udito questa mattina non vorrete dire che il bambino intervenne jameson precisamente era il bambino che faceva quel rumore calcando la sabbia bagnata sul suo castello che come vedete è già quasi finito il che significa che il ragazzino ci sta lavorando da varie ore il rumore dell'acqua corrente proveniva da un tubo per annaffiare munito di un boccaglio che si può aprire e chiudere a volontà di conseguenza ora sappiamo che mentre il signor Lane veniva ucciso il bambino era là fuori intento alla sua costruzione subitamente interessati jameson e brighton si volsero verso pons gli avete fatto delle domande chiese il rispettore pons annui sì il bambino ha udito il trambusto della collutazione ma doveva trattarsi di un rumore soffocato visto che il bimbo attraverso la finestra aperta ha sentito mentre il signor brighton che era sul retro non si è accorto di niente rivolgendosi allo scrittore il mio amico continuò mi è stato accennato qualcosa a proposito di una lettera una lettera di minacce che il signor Lane avrebbe ricevuto in questi ultimi giorni brighton annui sì ma è stata distrutta gliel'aveva scritta un collega credo un certo john estenam furioso per un articolo di gerald che lo metteva in ridicolo un articolo pubblicato recentemente tre giorni fa estenam è rimasto ucciso in un incidente durante le corse nell'essex disse pons lo sapevate brighton confermò tranquillamente sì lo sapevo jamison saltò su inviperito e perché non ce l'avete detto quando vi abbiamo interrogato il giovanotto lo guardò meravigliato beh credevo che lo sapeste naturalmente se leggete i giornali insomma tutti leggono i giornali jamison si placò e pons reprimendo un sorriso chiese aveva altri nemici signor lane non direi che estenam fosse un nemico signor pons screzzi fra giornalisti se è stato lui a mandare quella lettera non lo ha fatto certamente con l'intenzione di andare fino in fondo no non credo che gerald avesse dei nemici sta bene mi piacerebbe dare un'occhiata a quella satira scritta dal signor lane suppongo che in casa ci sia una copia del giornale ne ho una nella mia stanza rispose brighton vado a prenderla lo scrittore era appena sparito nella sala da pranzo quando pons balzò in piedi e uscì a razzo sulla terrazza girò l'angolo ancora prima che jamison e io avessimo il tempo di muoverci passarono alcuni minuti brighton tornò e si guardò intorno sorpreso dov'è il signor pons domandò mentre egli finiva di parlare il mio amico rientrò nel soggiorno venendo dal terrazzo si asciugava le mani in un fazzolettone che poi infilò in una tasca del sopravito notai così che entrambe le tasche erano gonfie di roba da una spuntava un pezzo di giornale ah signor brighton disse avete trovato l'articolo senza far parola lo scrittore gli porse il ritaglio e rimase a guardare fisso con i suoi occhi rotondi mentre ponsa scorreva qua e là all'articolo poi lesse ad alta voce l'illustre signor Payne ha di nuovo provocato una specie di terremoto con una sua cronaca sulle corse il che è naturale data la sua competenza specifica nel ramo si dice che il signor Payne abbia una fortuna sfacciata con le sue scommesse tanto è vero che si è assunto l'onere e l'onore di sovvenzionare uno spettacolo teatrale del quale egli stesso sarà il protagonista principale il regista e guarda caso il finanziatore certo che è una bella fortuna per gente come noi che ci sia il signor Payne in circolazione borbottò pons continuando la lettura in silenzio finito di leggere osservò vedo che l'articolo non è firmato non c'è niente di strano signor pons succede spesso che noi non firmiamo gli articoli a volte basta osservare l'impaginazione per capire chi è l'autore di un pezzo penso che Estenham abbia individuato chi ha scritto la satira proprio in questo modo ho capito mormono pons a quanto pare il signor Lane si interessava molto al teatro vero Brighton a noi Gerald aveva cominciato a recitare quando aveva ancora i pantaloncini corti era figlio di un'attrice forse la ricorderete Jenny Lane capisco leggendo questo articolo si ha l'impressione che il signor Lane conoscesse bene il mondo delle corse occasionalmente si occupava anche di cronache sportive sì ma agli inizi della carriera e la passione per le corse gli era rimasta scommetteva spesso grazie signor Brighton a una cosa ancora mi è stato detto che il pugnale col quale è stato ucciso il vostro collega era di proprietà dello stesso signor Lane dove la teneva abitualmente quest'arma su quella mensolina laggiù disse Brighton additandola questa era collocata proprio a lato della porta di comunicazione fra il soggiorno e il corridoio mentre Jameson lo seguiva con lo sguardo Pons si avvicinò sollecitamente alla mensola per esaminarla l'assassino entrando ha afferrato lo stiletto e si è buttato su Lane suggerì l'ispettore Pons fece un cenno con la testa con aria distratta ma non aggiunse parola dalla sua espressione compresi che era sorto in riflessioni che non mancavano di lasciarlo perplesso finalmente voltate le spalle alla mensola disse a Brighton credo che sia tutto girandosi verso l'ispettore soggiunse qui non possiamo fare altro per voi Jameson fra un'oretta circa fareste bene a venire a casa nostra può darsi che allora io abbia delle novità per voi nel frattempo potreste far rimuovere la salma una volta ritornati nel nostro appartamento Pons vuotò le tasche del sopravvito tirandone fuori degli oggetti pesanti avvolti in carta di giornale io stavo a guardare incuriosito ma evitai di rivolgergli domande preferendo che fosse lui stesso a parlare delle sue scoperte rimasi deluso dopo essersi infilato la veste da camera egli raccolse il suo bottino e sparì nel laboratorio da dove poco dopo mi giunse un rumore di acqua corrente intervallato da esclamazioni e borbottini Pons ricomparve ben tre quarti d'ora dopo quando la mia curiosità era ormai arrivata al massimo allora domandai si può sapere che cosa stavate facendo là dentro ho messo nel dovuto ordine i dati del nostro problemino Parker in quel momento notai che teneva in mano una curiosa statuina di legno raffigurante un ognomo un lavoro di intaglio caratteristico dell'artigianato austriaco le altre due sono nel laboratorio e gli disse a noi però interessa soltanto questa non sono i tre nanetti di Lane Ponsa sentì con un cenno della testa poggiò la statuetta sul tavolo e la contemplò con ammirazione credevo che fossero rossi disse io e lo erano infatti ho appena tolto la tinta e perché per stabilire con quale dei tre Lane sia stato percosso in modo da causargli quelle ecchimosi e per provare a me stesso che le statuine sono state verniciate non perché Lane lo desiderasse ma perché una era macchiata di sangue santo cielo esclamai come potete vedere questo legno assorbe molto facilmente continuò Ponsa imperterrito non sono nemmeno riuscito a togliere del tutto la tinta però guardando da vicino si vede subito dove era la macchia in questione sono sicuro che Brighton ha tentato di rimuovere il sangue lavando ben bene la statuetta allora piuttosto che distruggere queste figurine tanto graziose ha pensato bene di dare a tutte e tre una mano di tinta per mimetizzare la macchia ma allora l'assassino è Brighton Ponsa accennò una risatina Brighton non avrebbe il coraggio di uccidere una mosca però siccome non è stupido ha tentato di sviare le indagini della polizia camuffando quel poco che potrebbe costituire un indizio quindi lui sa chi ha ucciso Lane Brighton sa perfettamente come sono andate le cose vi assicuro Parker che la faccenda non è poi così misteriosa come forse voi avete immaginato in quell'istante suonò il campanello e poco dopo fece il suo ingresso Jameson l'agitazione gli si leggeva in faccia è sorto un fatto nuovo Pons si affrettò a dire davvero? ricordate i tre nanetti di cui ha parlato il signor Brighton Pons annui beh sono spariti qualcuno li ha fatti sparire Brighton è addirittura sconvolto questo mi dispiace rispose Pons perché sono stato proprio io a portarli via voi esclamò Jameson sì eccone uno continuò il mio amico porgendo all'ispettore la statuetta che era stata argomento della nostra discussione ma non è russo gridò Jameson no non lo è l'ho ripulito per andare a fondo alla questione che ci interessa avete scoperto chi è l'assassino esclamò Jameson non esiste nessun assassino ribatte Pons allora si tratta di suicidio l'avevo imbroccata io fin dal principio non è vero non si tratta nemmeno di suicidio continuò Pons con esasperanti imperturbabilità insomma di collasso cardiaco non è morto di sicuro insorse Jameson giustamente irritato no ma è quasi la stessa cosa affermò Pons con una risatina quel che è successo si potrebbe definire un incidente allungando una mano tirò fuori dal cestino della carta straccia un quotidiano che sfogliò pagina per pagina finché non ebbe trovato ciò che cercava finalmente ripiegò il giornale e l'opporsi a Jameson indicandogli un trafiletto leggete ad alta voce suggerì temo di aver avuto già in partenza un leggero vantaggio su di voi Jameson lesse il signor Gerard Lane scrittore e pittore è stato multato di 20 sterline per aver aggredito e malmenato il critico d'arte Eldridge Morton i cui giudizi gli avevano fatto perdere le staffe il signor Lane si ricorderà era già stato in altre occasioni severamente ammonito dal magistrato per un'analoga infrazione alla legge nell'ambiente artistico il signor Lane era famigerato per gli attacchi di collera ai quali va soggetto adesso avrete capito tutto spero disse Ponce Jameson scosse la testa non vedo il minimo spiraglio non mi direte che avete risolto il caso basandovi soltanto su queste poche righe no naturalmente ma ricordatevi che ho richiamato la vostra attenzione su un altro indizio facendovi notare la singolarità della stanza in cui giaceva il cadavere se vi prendeste la briga di visitare di nuovo l'abitazione dei due scrittori osserverete che le stanze arredate da Brighton sono caratterizzate da un'esplosione di colori contrastanti nessun artista autentico tollererebbe un arredamento tanto vistoso e appariscente come quello che risulta da quell'orgia di colori le stanze arredate da Lane invece sono di un'armonia splendida eppure si è voluto farci credere che egli desiderasse far verniciare di rosso le sue statuine austriache i nanetti rosso cardinale un colore assolutamente fuori di posto tra i toni ben dosati del soggiorno arredato da Lane questo per me rappresenta un indizio di importanza capitale non vi era nulla di eccentrico nella stanza e questo fatto stesso diventava una singolarità dopo aver visto la decorazione della sala da pranzo quindi Brighton ha deliberatamente ostacolato le nostre indagini intervenne Jameson temo di sì convenne Ponce ma ha operato in modo alquanto rozzo qualsiasi dilettante avrebbe visto il trucco eppure io non l'ho visto tutto sommato un caso elementare disse Ponce cominciamo con l'articolo sul giornale era perfettamente ovvio che l'autore non era Lane ma bensì Brighton e che chi era stato preso di mira non era quel tale Estenam ma Gerald Lane fate caso alla curiosa assonanza del nome utilizzato nell'articolo Payne quale nome più adatto per una presa in giro di Lane inoltre inoltre leggendo l'articolo il parallelismo fra Lane e l'immaginario Payne salta agli occhi ben inteso la lettera di Estenam non è mai esistita ma Brighton ha astutamente inventato questo particolare per confondere la polizia Jameson aveva l'aria di essere molto seccato a questo aggiungete il fatto che era inconcepibile che Lane intendesse deturpare l'armonia di tonalità del soggiorno con tre statuette rosse questa incongruenza mi ha colpito immediatamente poi mi sono ricordato che Lane aveva la reputazione di essere un caratteraccio un violento e leggendo l'articolo i miei sospetti hanno preso forma mi mancava soltanto la prova concreta che del resto era già al sicuro in una delle mie tasche ho ripulito le statuine e questo mi ha permesso di riscontrare su una di esse le tracce di una macchia di sangue ecco come si spiegano le ecchimosi ritrovate sul corpo di Lane Pons a noi ma se si tratta di un incidente perché Brighton ammesso che sia stato lui avrebbe malmenato Lane tanto da causare le contusioni un incidente sì confermò Pons il motivo altrettanto elementare pensate un momento al carattere violento di Lane e figuratevi come deve essere andato in bestia scoprendo che l'autore dell'articolo di satira era Brighton non appena l'ha saputo è corso a casa per fare i conti con l'amico logicamente era fuori di sé dalla rabbia mentre egli si toglieva il soprabito Brighton che senza dubbio non era in giardino ma in qualche altra stanza lo ha sentito muoversi e chiedendosi come mai Lane fosse già tornato a casa lo ha raggiunto in soggiorno ecco perché il bambino della casa accanto dice di aver udito il rumore della zuffa e Brighton invece afferma di non aver sentito niente perché lui Brighton era l'altro contendente nel momento stesso in cui Brighton è entrato nella stanza Lane ha afferrato la prima arma che gli è capitata sotto gli occhi lo stiletto l'altro si è scansato e per difendersi istintivamente ha agguantato l'unico oggetto a portata di mano la statuetta che si trovava sulla mensola del caminetto sapendo che gli accessi d'ira di Lane erano di breve durata non aveva nessuna intenzione di far veramente del male all'amico ma non voleva nemmeno farsi massacrare se possibile Brighton allora ha colpito Lane di striscio alla testa da qui la prima ferita non avendolo nemmeno stordito ha lasciato cadere la statuetta e ha ingaggiato con Lane una lotta corpo a corpo tenendolo stretto per il polso sinistro Lane era mancino da qui la seconda ferita quasi certamente nel corso della zuffa mentre Brighton torceva il polso dell'avversario questi deve averlo costretto a indietreggiare inchiodandolo con le spalle al muro e ecco come è successo che alla fine per puro accidente Lane stesso deve aver premuto il petto contro il pugnale che Brighton gli aveva ritorto contro e si è trafitto il cuore esaminando il corpo avrete senz'altro notato che il braccio sinistro era piegato in direzione dello stiletto io direi che questo indizio può essere ritenuto valido secondo me fa pendere la bilancia a favore dell'ipotesi che sia stata la mano di Lane a impugnare l'arma quando questa gli è penetrata nel cuore ritengo superfluo aggiungere che lo scrittore deve essere crollato a terra accanto alla statuina sfuggita dalle mani di Brighton imbrattandola di sangue è chiaro che una volta superato il panico del primo momento la mente freddamente calcolatrice dell'uomo che ha scritto una eccellente monografia sul gioco degli scacchi ha preso il sopravvento sull'emotività elaborando un piano destinato a portare fuori di strada le indagini e forse Brighton sarebbe anche riuscito nel suo intento se il suo temperamento artistico non lo avesse indotto a conservare le statuette una era macchiata di sangue non essendo riuscito a ripulirla del tutto egli è ricorso allo stratagemma di tingerle di rosso tutte e tre il motivo che lo ha spinto a nascondere la verità è abbastanza logico la paura che i fatti venissero erroneamente interpretati Ponce fece una pausa per accendere la pipa poi soggiunse potete portargli indietro i suoi tre gnomi e che non vi venga in mente di metterlo sotto accusa un buon avvocato scagionerebbe Brighton in 448 specialmente perché avrebbe un asso nella manica i precedenti di Lane comprovabili con documenti ufficiali dove si attesta che lui diventava facilmente rosso di rabbia rosso proprio come i suoi tre gnometti gli audio racconti serie Solar Ponce i tre gnomi rossi di August Derlich letto da Dan di 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 Grazie a tutti.